Sindaco, importante appuntamento a fine luglio qui alla Dispoli con le frecce tricolori. Assolutamente sì, ci stiamo preparando per questo evento importantissimo, il primo che si svolgerà nella nostra città e quindi vogliamo fare le cose per bene. Stiamo curando con l'assessorato alla cultura del nostro Marco Milani in collaborazione con la Prologo per quanto riguarda l'aspetto fieristico ogni dettaglio, anche per quanto riguarda l'aspetto legato alla sicurezza, all'ordine pubblico e stiamo lavorando bene, siamo fiduciosi. Assessore, sicurezza, ordine pubblico e tra l'altro si punta anche ad una convenzione con Trenitalia per far sì che i visitatori possano venire senza congestionare la città. Sì, stiamo lavorando per poter offrire dei mezzi di trasporto alternativi alla macchina e pulma, quindi sì, abbiamo stretto un accordo con Trenitalia. È già pronto il piano sanitario, stiamo lavorando su quello della sicurezza perché dovrà essere un evento meraviglioso, grandioso, ma il tutto fatto nella massima sicurezza e tranquillità. Ecco, non soltanto spettacolo aereo ma anche degli spettacoli a terra. Esatto, ci saranno una fiera, ci saranno degli spettacoli a terra con tanto di palco e artisti, questo per offrire un servizio completo a chi verrà alla Dispoli, non solo troverà il nostro mare, non solo troverà le frecce tricolori ma troverà anche spettacoli e divertimento. Diciamo che la Sagra del Carciofo è stata un po' la prova del 9 per organizzare questo evento, anche per la Prologo. Sì, anche se noi naturalmente siamo molto avezzi all'organizzazione della Sagra del Carciofo, devo dire la verità che questo noi stiamo cercando di metterci ancora un po' più di qualità, perché è naturalmente sotto la lente dell'attenzione a livello nazionale, quindi è stata una scommessa interessante per l'amministrazione, ma anche per noi poi, quella di abbinarlo proprio ai 130 anni della nostra città, perché quest'anno la Dispoli compie 130 anni. E quindi è importante, è una bella sfida, anche perché è la prima volta, insomma le prime volte ci hanno sempre aspetti piacevoli e non piacevoli qualche volta. Noi cerchiamo di escludere quelli spiacevoli, in modo che sia un divertimento, come hanno detto già l'assessore e il sindaco, per tutti, a tutti i livelli, e che sia un pizzico di attenzione in più questa volta, e soprattutto sia una scommessa di tutta la città, che provi a fare una grande figura a livello nazionale, perché abbiamo bisogno di rilanciarci a livello di immagine, a livello di metaturistica, a livello di centro culturale vicino a Roma. Grazie a tutti.